Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! La cosa più interessante che ho visto è questa, la traduzione di Song of Horror Complete Edition, gioco che a me è piaciuto tantissimo, l'avevo fatto in live una volta, ma non era in italiano. Tra l'altro lo trovate nella versione completa, quindi non a episodi, a 11,99€ invece che 30€, quindi 60% di sconto, e tenete conto che c'è la traduzione. Ovviamente alcuni sono da testare ancora, da revisionare, quindi avranno magari degli errori, però cavoli. Inizio a dirvi una cosa perché so che qualcuno me lo scriverà non guardando magari nulla del video. Qui non avrete il download, ma avrete su alcune traduzioni soprattutto, soprattutto le principali, poi le altre traduzioni invece probabilmente no, la richiesta di essere un utente pro o di aver fatto una donazione. Io vi dico la verità, visto l'immenso lavoro, vista anche la quantità di traduzioni che questi ragazzi hanno caricato sul sito, che vi faccio vedere, queste qui sono quelle a pagamento. Adesso poi ne andremo a vedere alcune, li scorrerò pian piano, vedete che ce ne sono diverse, tantissime, tante in lavorazione. Io ho donato 5€ senza guardare subito. E vi invito a farlo, se vi va, di sostenerli e soprattutto di poter scaricare alcune traduzioni. Beh, comunque scaricherò questa e lo proverò finalmente in italiano perché è veramente un gran gioco. Un altro gioco interessante è Empire of Sin. Gioco nella media però, l'avevo fatto un video tempo fa, era molto interessante perché è uno stile un pochino anni trenta con un gameplay simile a un XCOM. Quindi anche qui non abbiamo l'italiano e c'è la traduzione anche qui da scaricare. L'altro titolo che vi porto è un titolo che io richiese ai tempi, che è questo. Stigian Rain of the Old Ones, che era parecchio complesso e complicato. Infatti io non ci feci mai un video perché era abbastanza complesso da capire. Ebbene, traduzione pronta. Tra l'altro sulla sezione altre traduzioni ne trovate altre ancora. Alcune le conoscete bene perché abbiamo fatto le live di War Tales. C'è Tauros, che è la giornata al 12 giugno. Wired West, c'è Vampire the Masquerade, per cui consigliano una versione GOG anziché Steam per farla, diciamo, prenderla un pochino più compatibile. Bel lavoro anche questo. Age of Wonders 4, anche questo portato. Pacific Drive, lo sapete, l'abbiamo portato anch'esso in live. C'è Atelier Isaac, ci avevo fatto il video qualche anno fa, completamente in inglese, molto bello. C'è il Stalker Anomaly, che è la mod, diciamo. E ce ne sono veramente tante. Insomma, se vi va, sostenete questi ragazzi che stanno traducendo tanti giochi. E io adesso corro a scaricare quella di Song of Horror perché è veramente interessante. Questo per dire che ci lamentiamo spesso delle lingue italiane mancante nei giochi. Che in questo caso, questo è solo uno dei tanti siti, ed è la seconda volta che io dono, perché mi pare che dopo un anno scada. E lo faccio sempre volentieri perché posso accedere appunto alle traduzioni e posso godermi i giochi. Non dico che non siano comprensibili tanti di questi giochi, però quando si magari rientra stanchi, e si vuole qualcosa di più easy, si vuole non pensare troppo, ecco. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete apprezzato i consigli. Tra l'altro, non vi ho fatto vedere Empire of Sin 9,99 anziché 39, e Stijan viene 3,99 anziché 19. Ecco, non avevo sottolineato questi prezzi. Ma su tutti io consiglierei Song of Horror, perché era veramente interessante. Interpreteremo vari personaggi che poi potranno morire o meno nel corso dei capitoli, esplorando questa casa infestata con queste presenze demoniache. Veramente molto interessante. Fatemi sapere, alla prossima ragazzi, e ciao ciao! Grazie a tutti!